Ma a Natale c'è il divieto. Mhm. Ed anche il 26 per Santo Stefano. Non mi direte che anche il 31 c'è il divieto? Sì, 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 sì. Non è possibile. C'è, ma dico io, se ho una ragazza che appartiene a un altro comune o città, per esempio, come facciamo a vederci, vacca Troia? A che c'avete da ridere? Ma porcaccia, ma sono due mesi che lavoro in zona rossa in Lombardia col coronavirus. Prendo le ferie e cosa fa il governo? Io volevo vedere la mia ragazza a Natale e a Capodanno. E invece no. E invece no. Cristo, mi toccherà vedermi con lei al supermercato, ve lo dico io.